Farina, morbida panna si trasformano in una dolce curva dorata e la dolcezza delle forme mi fa scoprire un fragrante biscotto che subito mi fa pensare alla mia colazione, ad un frollino da inzuppare. La sua perfezione è inconfondibile. Non posso sbagliare, questa è una macina a mulino bianco. La sua perfezione è un grande concerto live, dove si esimiranno anche in una serie di meravigliosi duetti inediti. Dal Dutch Forum di Milano, buon compleanno Radio Italia. Mercoledì alle 21.10 su Canale 5. Eccoci arrivati, andiamo su. Oddio, che è? Che è? Un drago. Ah beh. Ecco, pronti i vostri aule, un lino di chino. Ma che è? Ah, non piace? Allora io, frile caffè. Questo è caffè. Qualità olo. Guarda. Olo. Senti, da Cina col furgone, fa una cosa, beve da la testa a zozzeria. Beh? Buono. Perché questo è qualità oro, la pazza, non si può imitare. Cosa fa lì adesso con il mio olo? Ma questo da che terra viene? Cina. Da terra in Cina? No. Due contro uno non ce sto. Dovai, oh. Dal primo giorno lo hai protetto con il tuo latte, poi hai continuato tu o con il biberon. Ora che ha un anno, perché smettere? Con il latte crescita Mellin, arricchito con prebiotici, puoi continuare ad aiutare il tuo bambino anche dopo il primo anno. E tu lo vedi crescere sano e protetto, giorno dopo giorno. Latte crescita Mellin, continua a proteggerlo. Con Mellin puoi. Mellin. Il maltempo si avvicinava, dovevo raggiungere gli amici. Mesi e mesi di ricerche. Ora l'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Solo 25 tonnellate di marmo di Carrara. Solo 500 grammi di grano superiore e acqua purissima. No, i capolavori nascono dal genio di chi li crea. Ed è cieco e così buona perché è fatta ancora come più di 100 anni fa. Dopo lo spazzolino aggiungi Listerine ed elimini il 56% di placca in più. Listerine, l'unica bomba per la tua igiene orale. Solo Citroën poteva creare la nuova C4 Picasso 5 posti, il Visios Pass. Immaginate tutto quello che Citroën può fare per voi. Incredibile! Il Vici si pulisce da solo con Vici Net Energy. Il primo trattamento in polvere che diventa schiuma. Scioglie il calcare e pulisce fin sotto il livello dell'acqua. Vici Net Energy. Più che pulito, autopulito. Il nuovo Dash Lana e Delicati è nato per prendersi cura della bellezza dei tuoi capi. Perché aiuta a prevenire pelucchi e pallini. Mantiene la forma. Esalta la morbidezza. Protegge il colore. E sostiene il volume. Per capi cinque volte belli. Nuovo Dash Lana e Delicati. Dash. Più luce alla tua vita. La cerniera non fa più paura. Da oggi c'è Sinua. Sinua è il nuovo integratore alimentare che assorbe gli zuccheri e i grassi. Sinua. Meno grassi. Più linea. Signori, per me è una grande gioia assumere la presidenza di questa azienda. Sin da bambino ho sognato di diventare presidente di Alpitour, la più grande fabbrica di biscotti d'Europa. Presidente, veramente noi facciamo vacanze? Vacanze? Due milioni di viaggiatori, 600 destinazioni nel mondo. Alpitour, i numeri uno delle vacanze. Pazzesco! Nuova collezione numero 9 di Festina. Attraction is a universal feeling. Mi hanno insegnato a credere nell'impegno. Nello studio. Nella lealtà. Ho imparato a credere nell'amicizia. In me stesso. Nel lavoro di squadra. Sono cresciuto nella vita e nel lavoro. Non accontentarti, ora puoi scegliere. A Firenze, liceo classico e scientifico Giulio II. Per volare alto nella vita. Siamo stati in tutti i negozi di biancheria di Città della Pieve.